E per chiudere la nostra monografia dedicata ai Ramons e soprattutto per ricordarli, visto che tra un po' non ci saranno più, abbiamo una chicca davvero incredibile. Siamo riusciti ad avere un clip esclusivissimo, che è poi un video girato proprio ad uso e consumo dei Ramons stessi e consegnato semplicemente al fan club, che oltretutto ha deciso purtroppo di sciogliersi insieme al gruppo. Quindi noi ringraziamo il fan club e vi facciamo vedere questa chicca inedita, unica, in esclusiva. Preparate ancora una volta i videoregistratori perché sarà la nostra sigla. Quindi chiusura della monografia dedicata ai Ramons, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! Ciao!